Buona serata, nuovo appuntamento con il tv giornale di Telestense, ancora forte l'eco della festa della liberazione celebrata ieri a Ferrara e in provincia è destinata ad avere altri momenti di commemorazione martedì 30 aprile a Porotto per ricordare la barbara uccisione di 10 giovani cittadini che si opponevano al fascismo in primo piano oggi la vicenda del piccolo Giorgio, il neonato abbandonato mercoledì all'interno di una borsa presso il cimitero di Rosolina in provincia di Rovigo è trovato per caso da due signore che hanno contattato immediatamente 118 i carabinieri, nell'equip medica che lo ha soccorso anche una dottoressa ferrarese ad un mese esatto dal voto per il rinnovo dell'Europarlamento Ferrara si predispone all'incontro con i candidati al Parlamento di Strasburgo prossimo weekend saranno a Ferrara Matteo Salvini e Carlo Calenda ma quali sono le liste tra cui i ferraresi dovranno scegliere i candidati all'interno della circoscrizione nord-est e quali sono le regole del voto? Ve ne daremo questa sera una prima spiegazione e infine daremo uno sguardo anche al lungo weekend che unisce la fine di aprile con il primo di maggio con gli itinerari del Delta e una maratona di pattinaggio cominciamo tuttavia come dicevamo prima con una notizia positiva perché è stato commozione il ritrovamento di un neonato abbandonato davanti al cimitero di Rosolina nel Rodigino ma a salvarla è stata l'equip del 118 di Porto Viro di cui fa parte anche un medico ferrarese tutti i dettagli li vediamo nel servizio Migliorano le condizioni di Giorgio il neonato abbandonato mercoledì all'interno di una borsa presso il cimitero di Rosolina, Rovigo è trovato per caso da due signore che hanno contattato immediatamente il 118 e di Carabinieri l'equip medica ha intervenuta anche una componente ferrarese si tratta della dottoressa Anna Tarabini medico di emergenza territoriale impegnato presso una casa di cura di Porto Viro entrata in servizio per salvare il piccolo insieme all'infermiera Giorgia Cavallaro, la prima a prestargli le cure tanto che il neonato è stato battezzato Giorgio in suo onore e dell'autista Marco Marangon l'episodio ha particolarmente commosso lo staff dei soccorritori tanto che Giorgia Cavallaro ha scritto una lettera aperta pubblicata dal Corriere del Veneto in cui ha raccontato le emozioni provate dicendo che è entrato nella sua vita e che non ne uscirà più ora spetterà il tribunale per i minorenni di Venezia a individuare i genitori a cui affidare il piccolo attualmente ricoverato presso il reparto di pediatria dell'ospedale di Rovigo e torniamo dunque ad occuparci del 25 aprile delle manifestazioni organizzate in occasione del 74esimo anniversario dalla liberazione a Porotto martedì 30 aprile ci sarà una cerimonia che ricorderà l'ecidio del 45 e la morte di 10 giovani cittadini che si opponevano al fascismo vediamo Una cerimonia in ricordo dei 10 cittadini che il 25 marzo 1945 e il 21 aprile 1945 vennero trucidati dai nazi fascisti è l'appuntamento organizzato a Porotto martedì 30 aprile per ricordare 10 persone alcune delle quali giovanissime che pur appartenendo a diverse ideologie politiche hanno testimoniato la loro tenace opposizione al fascismo e la loro fede nella libertà sino al sacrificio supremo della vita Alle 14.30 alla scuola secondaria dei Pisis si terrà così il concerto d'archi tenuto dagli studenti del conservatore fresco baldi di Ferrara poi alle 15 un corteo si recherà al cipo di Via Ladino per la deposizione di una corona d'alloro e per i discorsi di commemorazione il discorso ufficiale sarà tenuto da Cristina Corazzari assessora alla pubblica istruzione del comune di Ferrara e poi l'intervento della senatrice ferrarese Paola Boldrini a chi vuole cancellare il significato del 25 aprile noi rispondiamo con più storia e più memoria ha sottolineato la senatrice del PD Il 74esimo anniversario della liberazione è stato celebrato con cerimonie anche in tutto il territorio comunale di Cento con deposizione di corona e monumenti ai caduti di tutti i centri nel capoluogo accompagnato dalla banda Giuseppe Verdi di Cento ad Alberone, Buonacompre, Casumaro, Corporeno, 12 Morelli, Renazzo e Renocentese in piazza Guercino gli interventi del sindaco Fabrizio Toselli che si è soffermato sui concetti di impegno civile e di senso di unità sollecitati dalla memoria e di Federica Zarillo della sezione Ampi di Cento al termine una serie di letture ispirate al saggio di Umberto Eco UR Fascismo, il fascismo resistente a cura del direttivo Ampi di Cento anche a Terre del Reno non si sono tenute le celebrazioni ufficiali della liberazione con la filarmonica di San Carlo prima nei giardini pubblici di Mirabello e poi a Sant'Agostino dove il sindaco Roberto Lodi ha sottolineato l'importanza dei valori della festa della libertà ed ha annunciato che il parco che sorgerà davanti al nuovo municipio di Terre del Reno sarà intestato a Gino Mangia paracadutista dello squadrone Folgore caduto il 25 aprile del 45 durante un'ultima azione bellica si era offerto di facilitare insieme ai partigiani la liberazione del territorio ferrarese dall'esercito tedesco e adesso parliamo della nostra regione dell'Emilia Romagna appunto l'unica regione a disporre di una fondazione per le vittime dei reati nel bilancio della prima riunione del 2019 sono stati assegnati quasi 53 mila euro a tutela di 28 persone vittime di violenze il contributo servirà a sostenere spese per la casa percorsi scolastici dei figli supportare psicoterapie o interventi educativi per donne e bambini favorire il trasferimento in un'altra città per chi ha deciso di allontanarsi dal maltrattante ebbene sono 10 le richieste ricevute in Emilia Romagna tutte accolte di cui una anche nella nostra provincia quindi nel ferrarese a queste si aggiungono le 7 istanze accolte nel 2018 in provincia di Ferrara di cui 4 per maltrattamenti su donne o minori e 3 per omicidio compiuto o tentato e cambiamo argomento adesso parliamo di politica perché per le prossime elezioni europee sono in arrivo a Ferrara i due capilista di Lega e di PD siamo europei Matteo Salvini sarà a Ferrara il prossimo 3 maggio Carlo Calenda invece il 4 maggio tre i candidati ferraresi presenti nelle 17 liste che corrono nella circoscrizione nord-est a cui appartiene Ferrara con l'intera regione Emilia Romagna Carlo Focchi per il Movimento 5 Stelle Rita Cinti Luciani per Più Europa e in quota PSI Emanuela Biagi vediamo Ad un mese dalle elezioni europee Ferrara si prepara l'incontro il prossimo weekend prima con Matteo Salvini capolista della Lega nella circoscrizione nord-est come del resto in tutte le altre 4 circoscrizioni nord-ovest, centro, sud e isole in arrivo per il prossimo 3 maggio subito dopo, sabato 4 maggio Ferrara incontrerà Carlo Calenda capolista di Siamo Europei listo unitario del PD che comprende tutte le anime dei DEM da Pisapia a Calenda Salvini terra un comizzo alle 16.30 nei giardini sul retro della sede dell'azienda sanitaria territoriale al centro del quartiere Giardino da sempre nel mirino della Lega per i temi della sicurezza e dello spaccio mentre Calendi incontrerà gli elettori in piazza della Repubblica intorno alle 10 intanto oggi è arrivata l'adesione della Sessione Ferrarese di Italia in Comune che alle europee presenta Pissarotti come capolista della circoscrizione nord-est all'appello per l'Europa un documento recentemente firmato da Confindustria, CGL, Cisle e Will rivolto agli elettori e alle forze politiche italiane per sottolineare l'importanza del progetto europeo e la necessità di rilanciarlo nitido e forte in tutta la sua portata di civiltà premesso che nella circoscrizione nord-est una delle 5 macro-are in cui è stata divisa l'Italia alla quale appartengono con il Friuli Venezia Giulia il Veneto, il Tentino Anto Adige anche la provincia di Ferrara e l'Emilia Romagna ha a disposizione 15 seggi sui 73 che aspettano all'Italia per il rinnovo del Parlamento europeo sono 3 ferrarese in corsa per Bruxelles Claudio Focchi del Movimento 5 Stelle Rita Cinti Luciani per Più Europa e Emanuela Biaggi per il Popolo della Famiglia presenti tra i 258 candidati della circoscrizione distribuiti nelle 17 liste che scenderanno in campo e che vanno dal PD, Siamo Europei alla Lega, al Movimento 5 Stelle a Forza Italia, Più Europa insieme a Italia in Comune Fratelli d'Italia, Suttiroler, Volkspartei Partito Comunista, Popolare per l'Italia La Sinistra, il Partito Animalista l'Europa Verde, il Popolo della Famiglia con Alternativa Popolare Casa Pound con le Destre Unite Forza Nuova, Partito Pirata e il Popolo delle Partite IVA E dunque la provincia di Ferrara fa parte della circoscrizione nord-est come avete sentito una delle 5 macro aree in cui è stata divisa l'Italia che comprende Friuli, Venezia, Giulia Veneto, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna Si voterà nella sola giornata di domenica 26 maggio dalle 7 alle 23 e lo scrutinio verrà immediatamente al termine delle operazioni di voto Vediamo Domenica 26 maggio oltre al rinnovo di 235 amministrazioni comunali si voterà anche per eleggere i deputati che formeranno il Parlamento Europeo per i prossimi 5 anni Saranno circa 3 milioni e mezzo gli elettori emiliano-romagnoli che si recheranno le urne per eleggere i loro rappresentanti a Strasburgo L'Italia è divisa in 5 circoscrizioni contraddistinte dai colori delle schede elettorali L'Emilia Romagna è inserita nella circoscrizione nord-est comprendente anche il Veneto, il Trentino Alto Adige il Friuli Venezia Giulia La scheda che sarà consegnata agli elettori è di colore marrone e i seggi saranno aperti nella sola giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23 Nella circoscrizione nord-est ci sono 17 liste che vedono in corsa 254 candidati Lo scrutinio avverrà immediatamente al termine delle operazioni di voto Il voto si esprime tracciando sulla scheda un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta In Italia la legge elettorale che regola le europee è del 1979 si tratta di un proporzionale puro al quale nel 2009 è stata aggiunta una soglia di sbarramento del 4% per questo motivo potrebbero essere diversi i partiti che rischiano di restare fuori dal Parlamento europeo I seggi che per l'Italia sono 73 dei 751 vengono assegnati a ciascuna lista su base circoscrizionale e vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nelle varie liste di ogni circoscrizione Intanto ci sono le nuove proiezioni del Parlamento europeo sulla futura Eurocamera basate sui sondaggi nei paesi e che tengono conto dell'ingresso dei britannici senza la Brexit proiezioni che disegnano un calo del Partito Popolare e dei socialisti democratici che rispettivamente perdono 5 punti percentuali rispetto allo Stato attuale Salgono invece l'Europa delle Nazioni della Libertà dove siede la Lega all'8,3% i Verdi al 7,6% l'Alde che ospita più Europa al 10,1% e l'Europa della Libertà e della Democrazia Diretta con il Movimento 5 Stelle a 6% Una segnalazione che riguarda il fisco adesso in particolare per domattina quando ci sarà una apertura straordinaria dell'Agenzia delle Entrate per informazioni sulla pace fiscale il cui termine ultimo è per martedì 30 aprile Sentiamo i dettagli La pace fiscale è un progetto ampio e articolato previsto dalla legge di bilancio 2019 che consiste in quattro diverse opzioni di chiusura dei debiti e delle cartelle saldo e stralcio delle cartelle per i contribuenti con Ise fino a 20.000 euro rottamazione terra delle cartelle definizione agevolata delle liti tributarie pendenti stralcio totale mini cartelle fino a 1.000 euro Martedì 30 aprile è il termine entro il quale inviare le domande per il saldo e stralcio e la rottamazione terra con cui i contribuenti possono richiedere di beneficiare della riduzione dell'importo dovuto prevista dalla legge In vista della scadenza Agenzia delle Entrate e Discorsione ha messo in campo una serie di iniziative sul territorio per garantire assistenza ai contribuenti con una apertura straordinaria nella giornata di sabato 27 aprile dalle 8.15 alle 13.15 anche per la sede di Ferrara Per presentare la domanda non è comunque necessario andare allo sportello ma si possono utilizzare anche i canali online presenti sul sito internet di Agenzia delle Entrate e Discorsione con la possibilità di verificare le cartelle che si possono rottamare e di inviare le istanze di adesione in qualsiasi momento inclusi i giorni festivi Grazie ai servizi online di Agenzia delle Entrate e Discorsione da cui alla data del 24 aprile si legge in un comunicato è arrivato circa il 50% delle richieste è possibile presentare la domanda fino alla tarda serata del 30 aprile quindi anche dopo l'orario di chiusura degli sportelli le informazioni a riguardo sono consultabili sul sito agenziaentrateriscorsione.gov.it In questo servizio abbiamo parlato dunque di web e di tecnologia rimaniamo sul tema tecnologico anche se la notizia è completamente diversa parliamo dunque di innovazione tecnologica che arriva anche nelle botteghe sotto casa le domande per accedere al bando della regione Emilia Romagna si presenteranno dal 20 maggio all'11 luglio sentiamo i dettagli La rivoluzione tecnologica arriva nei negozi di vicinato sono i negozi dove andiamo più spesso a comprare botteghe del quartiere dove viviamo di cui siamo clienti fedeli magari compriamo poche cose ma quotidianamente o quasi arriva anche per loro l'opportunità di entrare nel mondo digitale vale a dire l'ingresso dai negozi connessi capaci di fare e-commerce e di organizzare le cosiddette vetrine intelligenti per suggerire nuovi look e vedere ad esempio come sta un nuovo abito addosso senza provarsi realmente nulla ad annunciarlo alla regione che investe 3 milioni di euro di risorse PORFES 2014-2020 con un bando approvato dall'aggiunta regionale per lo sviluppo di nuovi servizi e della capacità competitiva dei negozi di vicinato il bando potrà sostenere progetti per innovare la gestione i sistemi di vendita permettere alle piccole imprese commerciali di affrontare la trasformazione dei mercati e le nuove richieste dei consumatori e comunque abbiamo davvero bisogno di negozi digitali sotto casa non c'è il rischio che l'innovazione faccia un'ulteriore selezione fra le botteghe sopravvissute prima alla grande distribuzione oggi in crisi poi allo tsunami di Amazon e del servizio a domicilio quasi a tutte le ore per saperlo bisogna rispettare il futuro in ogni caso è bene sapere fin da oggi che il bando è rivolto in particolare ai piccoli esercizi di vicinato in sede fissa cioè quelli con una superficie di vendita entro i 150 metri quadrati nei comuni con meno di 10.000 abitanti e fino a 250 metri quadrati se il negozio si trova in un comune con più di 10.000 abitanti il contributo a fondo perduto possibile per progetti che prevedono un investimento superiore ai 10.000 euro potrà arrivare al massimo a 50.000 euro e coprire fino al 40% della spesa ammissibile e sono molti in questo periodo i turisti che hanno affollato la città e la provincia di Ferrara prima con il ponte di Pasqua poi quello del 25 d'aprile si andrà avanti ancora per una settimana circa e fra le offerte del turismo di prossimità che Ferrara offre per il ponte del primo maggio ci sono gli itinerari in barca nelle valli di Comacchio alla scoperta dei casoni di valle vediamo di che si tratta per chi ama immergersi nel verde gustare il premassaggio dell'estate naturalmente tempo permettendo fra terra e acqua per il primo ponte di maggio quindi nel prossimo weekend Comacchio e la costa dei lì di Comacchiesi offrono straordinari percorsi nautici e cicloturistici nelle valli e lungo i canali che solcano il parco del delta del Po così fra le attrazioni possibili c'è il percorso storico naturalistico a bordo dell'unica imbarcazione autorizzata dal parco del delta che consente di scoprire gli aspetti unici delle valli gli uccelli acquatici la vegetazione, la pesca il tutto spiegato da un'esperta guida ambientale con sosta e visita alle vecchie stazioni da pesca i casoni dei vallanti i lavorieri fedelmente ricostruiti con canna palustre per chi vuole invece muoversi c'è anche l'abbinamento Bike and Boat nelle valli e nella salina di Comacchio un itinerario che alterna la barca e la bicicletta lungo un percorso ad anello che dal mare porta le valli a Comacchio per chi ama l'arte e i paesaggi urbani della tradizione c'è anche la vista guidata alla città gioiello di Comacchio con il museo del delta antico e l'antica fabbrica della manifattura dei marinati poco lontano a Lido di Spina si trova la casa museo Remo Brindisi con opere di Fontana, Picasso, Warhol e Pollock Questa dunque è una delle tante offerte per il ponte del primo maggio ma primo maggio a Ferrara significa anche sport e in particolare torna il trofeo del lavoro città di Ferrara in piazza Riostea con il pattinaggio grande protagonista di questo evento questa mattina la presentazione in conferenza sentiamo dunque che cosa accadrà tra il 30 aprile e il primo maggio Compie 60 anni la giornata del primo maggio in piazza Riostea dedicata al pattinaggio da corsa su strada il trofeo del lavoro città di Ferrara rappresenta un appuntamento ormai consolidato per lo sport estense anticipato dalla manifestazione Ferrara in Line Roller Games che si trà nel pomeriggio del 30 aprile ci aspettiamo due giorni di grandissimo spettacolo e festa soprattutto festa il 30 aprile con i Ferrara in Line Roller Games con i quali vogliamo fare pattinare tutti una grande festa dedicata ai bambini all'inclusione sociale, all'integrazione dove avremo Roller Bid School presente in piazza dove avremo Avis dove avremo i laboratori del maggio dei libri quindi una piazza Riostea che diventa un contenitore di eventi dove il pattinaggio sarà l'evento principale dove tutti possono partecipare gratuitamente piccoli e grandi poi saranno i protagonisti dell'intera giornata del primo maggio il primo maggio è una giornata di altissimo tasso agonistico condita è vero da eventi anche ludico-motori ma l'ossatura fondamentale della manifestazione sono le gare del trofeo del lavoro si parte la mattina con i piccoli al pomeriggio apriamo con il campionato italiano per le categorie master e poi le gare delle categorie più grandi valide come attribuzione di punteggio per l'Italian Line Tour quindi previsti atleti di altissimo livello che contenderanno le vittorie prestigiosi di piazza Riostea un evento che gode di numerosi patrocini e collaborazioni e che quest'anno è organizzato dalla palestra ginnastica sportiva per un importante anniversario la palestra ginnastica Ferrara quest'anno festeggia i 140 anni della sua fondazione la nostra società come tutte le società di ginnastica d'Italia in quegli anni non facevano solo ginnastica ma praticavano attività sportiva in tanti settori tra gli sport, le discipline che erano praticate allora c'era anche il patinaggio quest'anno in occasione di questi 140 anni abbiamo deciso come società di riaffigliarci nuovamente alla Federazione Italiana Sport Rotellistici da questo motivo nasce il nostro ingresso nel mondo del patinaggio a rotelle e quindi l'organizzazione della sessantesima edizione di questo tofeo primo maggio tra i patrocini anche quello del CONI, partner storico dell'evento la manifestazione del primo maggio che ha preso lo specchio come diciamo catering chiamiamo così sul campo è molto importante perché i proventi di questo movimento vanno ai ragazzi che stanno esercitando l'autonomia quindi è veramente una grandissima idea in più abbiamo l'Avis che sta collaborando tantissimo con noi con tutte le manifestazioni e lì voglio ringraziare veramente tanto perché anche noi avremmo con il CONI adesso degli inserimenti bambini disabili in un campus e sono offerti diciamo così dall'Avis Questo dunque per quanto concerne il patinaggio ma adesso parliamo anche di calcio, di spalle in particolare perché i risultati e le prestazioni dei giocatori bianco-azzurri non sono passate inosservate Roberto Mancini è infatti convocato per il prossimo stage in programma a Coverciano il 29 e il 30 aprile 5 giocatori della Rosa di Semplici Murgia, Petagna, Bonifazi, Valotti e Vicari una grande soddisfazione per la società ferrarese anche se stupisce il mancato inserimento nella lista del CT di Lazzari una spiegazione trattandosi di un ostaggio potrebbe essere individuata nel fatto che Mancini ha già avuto modo di conoscere pregi e difetti dell'esterno della SPAL avendolo avuto a disposizione per precedenti impegni della sua nazionale prevedibile era la convocazione di Petagna sul quale stanno riversando il proprio interesse vari operatori di mercato tra le tante voci possibili di offerte che iniziano a rincorrersi e che da qui alla fine della campagna acquisti e cessioni si prevede e si succederanno con una certa frequenza ne giungono dalla Premier League la sensazione è però che salvo proposte faraoniche la SPAL non si priverà del suo bomber a questo punto siamo in chiusura però prima vi ricordo come sempre telestense.it il nostro sito dove trovate queste e altre notizie poi condivise sui nostri spazi social vi ricordo che ci trovate su Facebook su Twitter e su YouTube grazie dunque per averci seguito come sempre l'appuntamento è rinnovato alla prossima edizione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti